Dopo i tre contagi di due giorni fa, altre due persone contagiate da coronavirus registrate nel Cilento, questa volta Centola e Ceraso. Per il caso di Centola si tratta di una giovane milanese in vacanza a Palinuro, come annunciato dal sindaco Carmelo Stanziola. Abbiamo appreso da pochi minuti che un giovane di Milano in vacanza nel nostro comune è risultato positivo al Covid-19. Lo stesso a scopo precauzionale, già ieri era stato posto in isolamento insieme alla fidanzata. Questa sera è stato disposto il trasferimento presso l'ospedale di Scafati. Il giovane non presenta alcun sintomo. Guarite invece le due donne di Centola, che alcune settimane fa erano risultate positive al virus. Sempre legato all'estero il contagio di Ceraso, anche se in questo caso si tratta di un cittadino del paese cilentano, da poco rientrato. Ora si procederà ad effettuare i vari tamponi sui suoi contatti stretti. Riguardo ai casi di Oliastro Cilento e Pisciotta, per ora solo tamponi negativi, nessun contagio fra i sanitari dell'ospedale di Agropoli venuti a contatto con il paziente positivo di Oliastro Cilento, anche a Pisciotta negativi i contatti della badante ucraina contagiata dal Covid. Si attendono invece i risultati dei tamponi relativi ai contatti stretti del 53enne, risultato positivo al coronavirus martedì mattina.